Allora, subito un grande inizio, anche contro una big del campionato, ve l'aspettavate così? Sì, abbiamo aspettato una partita del genere, una partita bella, una partita pesante, con tanti lunghi punti. In primo set non avevamo portato la pazienza, abbiamo sbagliato tanto, poi loro hanno difeso molto bene. Noi ci siamo persi un po', poi alla fine abbiamo tirato fuori un giusto carattere che ha questa squadra e siamo riusciti a vincere questa partita che è molto molto importante per noi, per il nostro futuro e per consapevolezza che siamo sulla giusta strada. Cos'è cambiato da quel primo set in cui appunto loro hanno difeso tanto e voi non siete riuscite quasi a mettere giù palla? È cambiato solo, secondo me ci siamo sciolti un po' di più e siamo state molto più pazienti e molto più aggressive sia in attacco che in difesa. Non sono cadute le palle facili, abbiamo battuto molto bene, loro hanno iniziato un po' di mancare battuta, allora abbiamo usato tutto quanto e alla fine abbiamo vinto, che è molto importante. L'ultima cosa, quanto è importante il fatto di aver conservato quasi interamente la squadra dell'anno scorso? Questa cosa è molto importante perché la base ne abbiamo e per creare un futuro è molto importante tenere la base e poi è molto più facile costruire per il futuro. Grazie, sperimenti.